E' durata poco la fuga dei due ladri che nella tarda mattinata di mercoledì 27 aprile hanno scassinato la cassetta delle offerte della chiesa parrocchiale di Ono San Pietro. Avvisati da una cittadina che ha visto i due all'opera, infatti i carabinieri della stazione di Capodiponte hanno bloccato le vie di fuga e sono riusciti a fermare l'auto sulla quale i due viaggiavano. Si tratta di due trentenni stranieri specializzati probabilmente in furti nelle chiese. Avrebbero messo a segno probabilmente altri colpi perché in auto avevano un tacuino con la lista di altre chiese della Valle Camonica. Per fortuna sono stati fermati in tempo e questo anche grazie alla sensibilizzazione che i carabinieri stanno facendo fra la popolazione con gli incontri che tengono nelle parrocchie della zona per mettere in guardia i cittadini anche sul fronte delle truffe, soprattutto gli anziani. In auto comunque i due avevano sul tappetino il lucchetto appena forzato, oltre a diversi attrezzi da scasso, alcuni sacchetti contenenti più di 1000 euro in monete, frutto probabilmente di colpi messi già a segno. Dopo aver raccolto la denuncia del parroco, i carabinieri hanno arrestato i due per furto aggravato in concorso. Il giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato il fermo, uno di loro è finito ai domiciliari, il secondo ha patteggiato otto mesi di reclusione. Un arresto anche in Franciacorta, provaglio di Zeo, una donna di 55 anni, si trova rinchiusa nel carcere di Verziano con l'accusa di tentato omicidio dopo che ha aggredito il marito. In casa prima ha tentato di accoltellarlo, ferendolo lievemente ad una mano, poi ha cercato di abbattere con una mannaia la porta del bagno dove l'uomo, più giovane della moglie di sette anni, era riuscito a rinchiudersi. Lui stesso è riuscito a lanciare l'allarme al 112. All'arrivo dei carabinieri la 55enne è stata arrestata, l'uomo a soccorso.